in questa settimana di parole in libertà e frasi come barzellette sono qua per raccontarvi la storia di un politico e di uno scrittore allora il politico si chiama benito mussolini è in un momento di particolare forza di grande potenza da pochi mesi si è svolta la marcia su roma l'hanno fatto capo del governo gli hanno dato i pieni poteri in altre parole mussolini può qualunque cosa lo scrittore è un giovane giovanissimo scrittore americano nato nei suborghi di chicago si chiama ernst emingway allora mussolini ed ernst emingway si erano già conosciuti alcuni mesi prima era il 1922 e emingway che scriveva per il toronto daily news era rimasto colpito da benito mussolini aveva scritto pensate mussolini non è il mostro che si racconta e quindi aveva deciso di tornare ad incontrarlo ed eccoci qua siamo nel gennaio dell'anno 1923 siamo in svizzera a losanna e benito mussolini sta per incontrare la stampa internazionale ci sono giornalisti da ogni parte del mondo americani inglesi francesi tedeschi spagnoli in mezzo a loro c'è anche il giovane emingway venuto lì per raccontare per il toronto daily news bene a questo punto tutta la stampa è pronta per entrare nella stanza è pronta per andare a incontrare quell'uomo ma non quell'uomo in quanto che essere umano non benito mussolini in quanto che mussolini benito bensì benito mussolini in quanto che politico che personifica l'italia questo gli uomini politici spesso lo dimenticano che in realtà loro rappresentano una collettività un paese intero tant'è si aprono le porte in quella stanza entrano tutti quanti giornalisti e vedono che benito mussolini è già lì è seduto dietro una scrivania con un grande e vecchio libro sta leggendo assorto nella lettura non guarda neppure i giornalisti che rimangono impressionati accidenti questo è un uomo che davvero rappresenta l'italia l'italia delle arti l'italia della cultura della letteratura l'italia di dante l'italia di leopardi del boccaccio del petrarca sta leggendo guarda che il libro antico anche emingway rimane colpito rimane colpito al punto tale che viene preso da una voglia da un'insanabile curiosità di vedere che cosa stia leggendo mussolini per cui striscia lungo la parete allunga il collo massima delusione emingway si rende conto e lo scriverà con toni terribili sul toronto daily news che benito mussolini sta fingendo sta prendendo in giro tutti ha in mano un dizionario dall'italiano al francese per giunta ribaltato sta fingendo clamorosamente e scrive un articolo terribile dice mussolini è un blef è un buffone tutta una pagliacciata ma in realtà in quell'articolo quello che è più grave è che è l'italia a diventare una pagliacciata è l'italia a diventare una commedia è l'italia a diventare una farza ecco 2400 anni fa platone scriveva che l'uomo politico deve avere la capacità di essere uno che ha il senso della misura che tiene insieme la trama e l'ordito e nella bc della politica dovrebbe esserci questo ricordarsi sempre che ogni volta che prendi la parola da politico sulle tue labbra compare qualcosa che non è mai a nome tuo ma è anche a nome mio è anche a nome tuo che mi stai ascoltando è a nome di tutti quanti quindi cari politici in vena di libero eloquio vi do un consiglio personale ogni volta che state per aprire bocca ricordatevi di quelle quattro regole fondamentali che diceva il buddha niente meno cioè ogni volta che stai per aprire bocca chiediti quattro cose la prima ciò che sto per dire è vero la seconda ciò che sto per dire fa danno a qualcuno tre ciò che sto per dire serve a qualcosa e soprattutto la suprema regola la quarta la più importante ti dice il buddha ogni volta che stai per parlare poniti la domanda ma non sarebbe meglio se stessi zitto grazie Grazie.